Cominciamo. Vi presento Scimpanzee 9. La terapia genica permetterà al suo cervello di creare cellule proprie per autorigenerarsi. La definiamo la cura per l'Alzheimer. È furbetto lui. Casa. Ha imparato il linguaggio dei segni? Sì, soltanto poche cose. Cesare mostra capacità cognitive che cedono di gran lunga quelle di un suo omologo umano. Il farmaco nel suo sistema ha radicalmente incrementato un sano funzionamento del cervello. Il farmaco funziona? I test devono essere limitati. Quello è uno scimpanzee! Stai bene, amico? Non sei un animale domestico. Lei non va a dare se la faccia. Lei e il suo figlio dovrete pagare per questo. Si scordi che c'è io a fare questo. Razzelli dov'è? Papà! Non ha mai vissuto con altri scimpanzee. Devi restare qui. Non andremo a casa per ora. Guarda chi c'è. Ci crede speciale? Stupida sceglia. Imparerà presto chi comanda. Non sapete con chi avete a che fare. Stupida sceglia. Stupida sceglia.